Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3 Vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015 Un'opposizione compatta almeno quanto la maggioranza ieri sera in Consiglio Comunale Pierezio Ghezzi, Caterina Grimaldi ed Aurelio Torriani si sono presentati questa mattina presso la sede del PD per esprimere la loro contrarietà a quanto accaduto ieri sera in Consiglio Comunale La maggioranza ha avuto un rifiuto netto e preciso di tutte le nostre proposte ha spiegato Ghezzi che insieme a Torriani e Lega ha votato a favore della proposta presentata dal consigliere Grimaldi del Movimento 5 Stelle relativa all'adozione della carta di avviso pubblico, la cosiddetta carta di Pisa Un documento già adottato da 350 enti e migliaia di amministratori finalizzato a rafforzare la trasparenza e la legalità all'interno delle istituzioni pubbliche in particolare contro la corruzione e l'infiltrazione mafiosa Un codice etico che però è stato prima bocciato dall'avvocato Codeville al tecnico del Comune che ha ritenuto illegittime alcune parti del documento e poi è respinto dal Consiglio Comunale con 16 voti contrari È la classica situazione in cui la politica non si assume le sue responsabilità ha commentato il consigliere del PD Gallotti presente questa mattina in conferenza stampa Questa maggioranza si è nascosta dietro il paravento della dirigenza ma la politica deve assumersi le sue decisioni in un momento in cui l'etica pubblica deve avere maggior rinievo Questo centrodestra ha fatto un passo indietro Per il consigliere PD Balduzzi l'arroganza dimostrata ieri sera dalla maggioranza in un contesto istituzionale come quello del Consiglio Comunale è preoccupante L'opposizione all'unanimità ha inoltre comunicato che chiederà che venga convocato al più presto un Consiglio Comunale sulle interpellanze Nel corso della giornata su JAPTV saranno disponibili gli interventi di Pierezio Ghezzi, Aurelio Torriani e Caterina Grimaldi